Con il rinnovato contratto cosa cambia in sostanza? Porta elementi di grossa innovazione dal punto di vista della qualificazione del settore è un qualcosa su cui abbiamo investito a partire dal livello nazionale perché già il contratto nazionale rinnovato a marzo scorso ha dettato le linee guida per i rinnovi territoriali puntando fortemente sulla formazione quindi qualificare il settore è un elemento centrale del contratto qualificare le imprese, i lavoratori alla luce anche del fatto di quella che è una situazione di innovazione che ormai nel settore edile, quindi delle costruzioni, non fosse altro che per l'uso per esempio dei nuovi materiali Tra i punti nel nuovo contratto l'agibilità sindacale Sì, è un punto dove la parte sindacale ha tenuto molto a concretizzarlo visto che noi siamo una categoria già per sé disagiata per la questione del precariato in questo articolato possiamo intercedere a dare informazione e formazione È una sinergia questa, comunque costruttiva? Sicuramente sì, con qualche problemino che poi nel tempo si è sistemato siamo finalmente riusciti a firmare il nuovo contratto di lavoro provinciale per gli edili dove i nostri dipendenti prenderanno 62 euro in più al mese che vanno sommati ai 119 euro di aumento di contratto nazionale insomma non è tantissimo ma comunque è un buon aiuto per andare avanti Abbiamo portato quasi 90.000 euro l'anno in più di prestazione ai nostri lavoratori attraverso la mutualizzazione della cassa edile abbiamo aumentato la sicurezza nei cantieri aumentando il fondo per i nostri RLST siamo riusciti a portare a casa un articolo che ci permette di esigere di avere il diritto per tutti i lavoratori di esercitare l'attività sindacale quindi le assemblee e i permessi sindacali grazie